Benvenuti all'appuntamento di Meteo Weekend. Le immagini dal satellite ci mostrano una perturbazione che sta per interessare l'Italia e aria fredda che affluisce dall'est Europa. Le immagini simulate ci mostrano come questa copertura nuvolosa tenderà a invadere le nostre regioni, specialmente quelle tirreniche settentrionali. Per oggi ci attendiamo tante nubi sulle regioni settentrionali con qualche nevicata sull'arco alpino centro-occidentale, qualche isolata pioggia anche tra il Lazio e la Toscana meridionale, qualche fiocco di neve anche sull'appennino molisano. Per quanto riguarda la nottata abbiamo ancora della nuvolosità diffusa, foschie sulle nostre regioni della pianura padana e qualche nevicata ancora sull'arco alpino, isolata debole pioggia che si affaccia sulla Sardegna. Per quanto riguarda i venti saranno moderati, mediamente orientali e i mari saranno generalmente mossi, tendenti a molto mossi quelli della Sardegna. Per sabato ancora tante nubi sulle regioni del nord-ovest con qualche fiocco di neve in montagna aumentano le precipitazioni sulle due isole maggiori, cielo tra poco nuvoloso e parzialmente nuvoloso sul resto dell'Italia. Per la notte una situazione pressoché invariata con qualche zona di sereno in più sulle regioni centro-meridionali, piove ancora sulle due isole maggiori. I venti saranno sostenuti dai quadranti orientali, forti sulla Sardegna, mari trammossi e molto mossi. Per la giornata di domenica ancora fenomeni localmente intensi sulle due isole maggiori, dal pomeriggio torna la neve sulle Alpi piemontesi, soleggiato sul resto dell'Italia. I venti ancora sostenuti da sud-est più forti sul Tirreno e sui mari circostanti la Sardegna. Le temperature destinate a diminuire nel corso della giornata di lunedì aumenteranno gradualmente domenica. Per il meteo è tutto, grazie per l'attenzione e buon weekend.